Dopo l'autopsia sarà il momento dell'ultimo saluto. Il funerale di Antonella Geraldi, la donna di 53 anni di Caltanissetta, morta all'ospedale Sant'Elia lo scorso 6 gennaio, sarà celebrato sabato alle 15.30 nella chiesa cattedrale di Caltanissetta. Per l'esito dell'esame autoptico bisognerà attendere risultati ufficiali che saranno disponibili nelle prossime settimane. Dai primi accertamenti sarebbero emersi un infarto intestinale e un'emorragia polmonare. Non si arresta intanto la commozione per la scomparsa della commerciante nissena molto conosciuta a Caltanissetta. Sono tanti messaggi sui social che esprimono tristezza e dolore per la morte prematura della donna. La camera ardente si terrà nella sala del commiato Geraldi Palermo in via Piemonte 16 prima del funerale appunto che sarà sabato alle 15.30 alla cattedrale del capoluogo nisseno.